Secondo voi è possibile sbilanciarsi sugli obiettivi del Napoli per il prossimo campionato? Io credo proprio di no, perché se mi dicessero sai il Napoli comincerà la stagione con l'organico che stai vedendo adesso con la formazione che Gattuso conosce bene e nessun altro acquisto quindi ci si ferma così, magari se riuscissero a prendere un altro centrocampista male non sarebbe, io direi, beh, per me è una squadra che può lottare anche per lo scudetto atteso che poi gli altri rimangano con il mercato che vediamo adesso ma il mercato chiuderà il giorno 5 ottobre, fino al 5 ottobre io non posso sapere se la Juventus prenderà Suarez, se il Milan prenderà Dele Alli se l'Inter prenderà Messi, questo non lo possiamo sapere e finché tu non sai quale sarà l'organico della tua squadra e quale sarà quello delle altre squadre sostenere un obiettivo per far felici solo i tifosi secondo me è una cosa molto sbagliata però, il però è necessario secondo il lavoro svolto da Gattuso per quello che abbiamo visto dal girone di ritorno in avanti della scorsa stagione perché è un riferimento su Gattuso noi possiamo averlo da quando è riuscito a rimettere insieme qualche pezzettino alla volta quando ha avuto a disposizione due centrocampisti che prima non c'erano come Demme e Lobotka perché il centrocampo del Napoli era sguarnito e non riesco ancora a capire oggi come Ancelotti abbia potuto pensare di far giocare la squadra senza un riferimento centrale davanti alla difesa uno smistatore di palloni oppure un controllore degli avversari da quel momento in avanti, quindi da gennaio in poi con il mercato di riparazione lo chiamiamo ancora così perché ci piace il calcio vintage con il mercato di riparazione il Napoli ha assunto una fisionomia diversa da quella che era prima è stato ricostruito pezzo per pezzo da Gattuso che ha riportato anche la squadra sulla linea di galleggiamento della preparazione atletica e alla fine che cosa è successo? nel periodo di valutazione gennaio-giugno del 2020 il Napoli è terzo in classifica in Serie A ha vinto la Coppa Italia e poi è arrivato agli ottavi di finale di Champions League giocandosela fino alla fine con il Barcellona che non mi pare essere l'ultima squadra del pianeta quindi per questa ragione io ottimisticamente voglio dire con questo Napoli così si può lottare anche per lo scudetto però se dopo aver perso Allan perderai anche Koulibaly e non saranno nessuno dei due sostituiti adeguatamente allora la rosa diventa troppo corta per poter pensare di lottare a lungo con altre formazioni Juventus, Milan e Inter che invece hanno le rose che pullulano di calciatori di alta qualità per poter pensare di alta qualità